Il tabellone segna gli arrivi scandendoli per colore gravità, rosso, giallo, verde, bianco e tutti in questa sala al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia sanno che la tesa sarà lunga a prescindere dalla gravità della patologia accusata e da quei numeri riportati sulla parete che però non menziona il dato più importante quanti medici ci sono in servizio, zero alcun medico strutturato solo dottori e gettone che però non hanno le competenze per poter trattare le patologie più gravi quei codici che richiedono urgenza ed emergenza le specialità che contraddistinguono il pronto soccorso dopo la visita dell'assessore regionale della sanità con la promessa di un innesto di altri tre medici a gettone resta la realtà di un pronto soccorso che a metà giugno è senza medici strutturati con infermieri che fanno i salti mortali per poter soccorrere tutti gli specialisti che avevano vinto il bando sono letteralmente scappati scegliendo altre ASD e sarebbe retorico chiedersi il perché i codici gialli restano nel triage per ore prima che i medici dei reparti di riferimento possano visitarli in sala d'attesa il via vai di gente e ambulanze è continuo un signore staziona lì da ore aspetta notizie sul suo caro portato in ambulanza la sera prima come lui tante, troppe persone il personale sanitario prova a coprire i buchi correndo tra i corridoi affollati di barelle del pronto soccorso qualcuno li chiama eroi, sorridono e continuano a correre ma le falle sono troppe e la barca rischia di affondare a giugno la situazione del pronto soccorso di Olbia punto di riferimento dell'intero territorio è drammatica